Io voglio sapere stasera di venire a cinema, sì o no? Stasera? Che film fanno? Ah, andiamo a multisala e poi vediamo che film sta. Stasera? Come devo venire stasera? Perché? Io verrei, cioè... E mia socia sta male. E quindi diciamo, sta male se... Sta? Sta male? Mia socia sta male. Sta male. E se io vengo sta male. Ah, sta male, sì. Noi dobbiamo ragionare pur di quel fatto. Amore, per piacere vieni perché penso che mamma stia morendo. E tu inizi a piangere, io muovendo. E vai, inizi a piangere, muovendo. Sto a parlare con Cristiano, non è che dici che... Oggi se ne va, domani andiamo al cinema. E allora, possiamo... E ma io voglio concludere quel fatto. E Don Franco sta? Buongiorno, Cristiano, dov'è la Salma? La Salma? Sì. Ma è morto o non è morto? Ma non è morto, sta morendo. Stiamo iniziando a piangere la testa. Ci vuole molto perché io devo andare al cinema. Scusate, non è che poi paghi biglietti a... Infatti, pure noi stiamo pensando di andare... Poi andiamo tutti... Allora, andiamo a piangere adesso e poi ce ne andiamo a... Così, ci prendiamo la piangere. Vediamoci che ho piangere. Ok, 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 ok.